musica 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 bella a tutti ragazzi ben ritrovati in questo nuovo video e sono qui in sede al mio sauce black il mio amico sos black ovviamente per fare l'attacco in crash of ranch ora vediamo quello è tutto vuole tutto pepe bomba vuole tutto tutto ragazzi finalmente mi sto migliorando perché difesa aerea ovviamente mi sto facendo pure il cannone a livello 9 e poi un'altra cosa importante cosa è i pecca a livello 2 e li devo portare a livello 3 poi minchia però un occhio dell'accidente scusatemi guardate quanto mi verrà costato il pecca ora dico io 3 milioni e 12 giorni fai folle ma va a fare nulla ma iscriviti ma cosa faccio ragazzi youtuber adorare i youtuber wow nomi yo e soltime wow Uuuuuh! Ciao! Razz! Buon vero! Uuuuh! Mamma mia! Ciao belli! Ciao Paolo! Vi saluto! Grappare! Benvenuto nel clan! Eheheheh! Niente io se mi manda su Mino Paz, non vale! Gabbè! 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 Vabbè, ragazzi! Facciamo questo attacco in go-whe-pe! Ugh! Go-whe-pe! Come si chiama? Go-wheee-ewew! Senta la strega ovviamente! Però con... Sreghe di livello... Che livello sono? Livello 3! Uuuuh! Vabbè mia! E agel di livello 7. Manna Manna Manna! Mamma mia Ragazzi Vada indugi facciamo l'attacco Mamma mia signori Quello è il mio corrispondente Numero 4 Dove il mio numero Eccolo qua signori Mamma mia Vediamo cosa riesco a fare Mamma mia Allora Facciamo così Allora vediamo un poco Ah ovviamente devo salutare il Re Barbaro Ecco E' l'un Ah eccolo Ciao Re Barbaro Ciao Domi Ovviamente Il Re Barbaro è carico sempre Comunque Vada indugi Facciamo l'attacco Allora C'ho domatori E speriamo Vabbè Metto un mago Ecco qua Ok C'ho un po' bello Da dove attacco Sopra o sotto Direi Da dove Da sotto Sì sì Veloce 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 Mamma mia Vai Ah Gli ultimi mago Oh Oh C'ho messo Mamma mia Che attacco Dove c'è? Dove c'è? Dove c'è? Dove c'è? Mamma mia il devasto con i peccas al 2 Mamma mia dei belli peccas Dalla le streghe Mamma mia Dalla le streghe Mica quanti scheletini Uuuuh Maddiiia Ah muri una A posto Una muri Maddiiia Mica quel mago sta facendo il devasto Signori Bomba Uno No Non scateniamo adesso Non scateniamo Adesso Vai Quel peccas è il pifatti suo No quello è Quello è apposciato Appunto Ah mi sono rimasti Oh Dai golem Dai golem Mi peccano un po' la peccano un po' la politica E' morto Oh quello sta sopprovvivendo Vai 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 golem Vai golem Spacca tutto Amunee E' come il mio golem Spacca golem Spacca golem Scusate Scusate Il 73% Se ce la fa No non ce la fa Niente Tony picchi paloni picchi paloni Mamma mia che tecu e piccu ok è stato un nuovo come mai non lo so vuoi stare per noi ragazzi inserito mamma mia niente ragazzi bellissima attacco bello un'altra estrella mamma mia troppo epico ragazzi ovviamente tocca al mio amico sauce black e attaccare vai eeeeh dica che cosa mi che cosa mi eh? cosa mi doni cosa mi doni è un problema non ho jam ne variamo doni niente ragazzi purtroppo non abbiamo trovato nessuno ovviamente per fargli donare un pecca all'amico mio niente siamo costretti a ad attaccare senza pecca ma vediamo no io senza niente io purtroppo non posso gemmare perché ho quattro gem come vedete un vero peccato scont mono e antucanal ammoli aspetta siamo parto Vai 3, 2, 1 3, 2, 1 Eccolo qua La regina di livello 10 E' 6 Ti vedo largare, non lo so Che è con qui per qui, compa? Quella, siamo a cura i reali Anzi al drago, diretto Sì, m***a voglia, 2 stelle M***a ma mi devo fare quei golem Ma di qua che saltano I, come si chiama, i golem Ce ne vuole, eh? Maria 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 Quante bombe Maria Oh ma quante bombe giganti ci sono Le regina stanno dormendo Compa, guarda Una accanto all'altro Vedono le stelle Ah ma vero, ma dov'è Ah, ma vero, ma dov'è Ah, grande Quella regina scatena ogni minuto Quella regina scatena ogni minuto A sega A sega E' venuto a camminare Ma non li vedo schiacciare Mi sta caricando Praticamente Eh, 79 79 M***a connessione per ora ma ha detto 79 79 Ora si è messo comunque 79 77 Quella strega ha scatenato il puttiferio Appunto Niente, compa Bella, bello attacco Due stelle Ovviamente Potevi fare Le tre stelle c'erano Le tre stelle c'erano Eh sì Eh, peccato Papà C'è anche un video No Ma lì Niente ragazzi Mi presento mio padre Ovviamente Mi spiace Ora me ne sono accorto giustamente Ragazzi Se vuoi fare un saluto I miei scritti Non lo so Ragazzi Da qui Tony Rosanera È tutto Ovviamente Dal mio amico Source Black Si sta pisciando Dalle lissate Ragazzi Niente 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 Delle lissate Delle lissate Delle lissate Ré